Buongiorno, buongiorno, buon giovedì, buon giovedì 18 marzo. Benvenuti, benvenuti a Mattino Insieme. Quella di oggi è la prima giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19, tante le cerimonie sia a livello nazionale e anche tante le cerimonie qui in Trentino come in Alto Adige. Come tutti i giovedì mattina abbiamo ospite in studio Diego Andreatta, direttore di Vita Trentina. Buongiorno Diego. Buongiorno Marco, buongiorno a chi ci ascolta. La prima pagina e l'apertura di Vita Trentina di questa mattina è questa, un anno per lui e San Giuseppe come sappiamo questa è un po' la settimana che ci porta proprio al giorno di San Giuseppe. Sì, un San Giuseppe speciale perché Papa Francesco ancora lo scorso 8 dicembre ha chiesto tutta la Chiesa di dedicare un anno intero a recuperare la memoria attualizzata di questo santo popolare, forse un più un tempo che oggi. Pensa che abbiamo verificato che lo scorso anno in Trentino solo ad un neonato è stato dato nome Giuseppe, mentre invece questo nome era in testa alla classifica nel periodo a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Nonostante appunto questo nome che forse suona un po' d'antico, sono molti gli spunti anche di attualità che vengono dalla lettera del Papa e cinque persone che abbiamo scelto un po' a caso insomma anche fra la gente normale che si chiamano Giuseppe hanno evidenziato per loro qual è l'aspetto caratteristico di questo santo a cui si sentono più vicini. Ecco, il tema dell'obbedienza, quello dell'accoglienza, quello della sacralità del lavoro, ma anche quello del coraggio creativo. In fondo è stato anche un migrante Giuseppe, quindi ci ricorda tanti migranti di oggi e poi questo suo, non dire nemmeno una parola, essere il grande silenzioso, il vivere nell'ombra, nell'umiltà ma non con un ruolo secondario, anzi accettato di essere il padre di Gesù. Oggi, lo dicevo prima in apertura, lo ricordavo, è la prima giornata nazionale per le vittime, in ricordo delle vittime del Covid, lo dicevo ci sono tante cerimonie sia in Trentino che in Alto Adige e c'è anche una cosa molto particolare che riguarda una cerimonia religiosa, no? Certo, anche la Chiesa Trentina ha voluto aderire oggi a questo momento nazionale così importante, questa mattina avremo anche a Bergamo il Presidente del Consiglio Draghi e lo ha fatto dedicando a questa intenzione una veglia di preghiera online che era già programmata per questa sera alle ore 20, era programmata come veglia in preparazione alla giornata dei missionari martiri che sarebbe il 24 marzo nell'anniversario di Romero, invece questo appuntamento appunto si estende anche al ricordo delle vittime del Covid. Lo ricordo questa sera alle 18 anche in, chiedo scusa, oggi che è il 18 alle ore 20 anche in streaming sui portali diocesani e tra l'altro la Chiesa Trentina ricorda proprio in questi giorni anche la prima vittima fra i preti trentini, Don Luigi Trottner, parroco di Campitello di Fassa, cui poi ne seguirono molti altri e anche religiosi e religiose. Sì, perché lo abbiamo ricordato purtroppo spesso, anche proprio nei nostri appuntamenti del giovedì mattina, veramente il tributo per quello che è riguardato il Covid e la Chiesa Trentina è stato un tributo molto alto, sia di parroci che di religiosi. Sì, soprattutto fra i preti anziani, anche perché il focolaio si era steso nel soggiorno dell'infermeria del Clero, dove un terzo degli anziani sacerdoti, li ospitati, è rimasto vittima del Covid. Ma insieme ai sacerdoti, la gente, tanti anziani, spesso colonne della vita anche comunitaria, sociale della loro comunità e quindi anche per noi cominciano i giorni del ricordo, un ricordo che è anche di affetto e anche quasi di restituzione di quello che allora non si era potuto fare. Purtroppo siamo ancora in una situazione, come abbiamo sentito dalle cifre, che desta preoccupazione e quindi è un ricordo molto vivo che ancora ci interroga e ci fa soffrire. Torniamo ora alla prima pagina proprio di Vita Trentina. In taglio alto si parla di agricoltura, lo vediamo, discesa in campo è il titolo, con un'agricoltura attenta, particolarmente attenta al sociale. Sì, ogni anno per San Giuseppe vogliamo cogliere un elemento, un aspetto di novità nell'agricoltura trentina e quest'anno Roberto Moranduzzo ha curato un servizio ampio andando a vedere la realtà della cooperativa Forchetta Rastrello a Villa Sant'Ignazio, un esempio di agricoltura sociale e poi parlando di questa nuova realtà che si va difendendo in Trentino che è quella delle comunità di sostegno all'agricoltura, realtà che si impegnano ad una produzione rispettosa dell'ambiente, a un recupero delle antiche culture, ad un'attenzione ai lavoratori e soprattutto alle fasce più deboli. In varie valli del Trentino c'è stata l'adesione a queste CSA, comunità di supporto all'agricoltura e abbiamo dedicato un ampio spazio ricordando anche la rete denominata Naturalmente Trentino. Ecco diamo anche delle informazioni concrete per chi volesse aderire a questo progetto. Le foto come sempre sono quelle di Gianni Zotta. Il vostro editorialista Vincenzo Passerini questa mattina scrive La vera riforma di Francesco, a che cosa si riferisce? Lo spunto viene dagli otto anni del pontificato di Bergoglio, era il 13 marzo 2013. In questo caso la riforma a cui si riferisce il nostro editorialista Passerini non è tanto la riforma della curia, una riforma organizzativa, ma è il ritorno alla parola, alla scrittura. Una parola però non come un approccio esegetico, intellettuale, teorico, ma come una parola che va vissuta. Nella Fratelli tutti che Passerini individua come testo maturo, fondamentale, Papa Francesco scende anche sul piano della concretezza. È una riforma che lui ha iniziato, che però, dice Passerini, non tocca solo a lui, ma tocca ad ogni cristiano. Quindi un richiamo a quella radicalità evangelica che peraltro aveva affascinato anche Dante, di cui pure ricordiamo l'importante anniversario. E in questi giorni un po' tutti abbiamo ricordato Kessler, anche voi questa mattina, in prima pagina. Parlate appunto dei 30 anni senza Kessler, appunto. Kessler, che lo ricordiamo, insomma, per il Trentino ha fatto molto, una cosa su tutte che possiamo ricordare, no? Certo, ricordiamo sempre l'università, però ci sono anche il piano urbanistico, l'elaborazione di autonomia, la sua attuazione e poi tutta la frontiera dello sviluppo tecnologico. Ma anche per Vita Trentina, Bruno Kessler è stato un riferimento, non solo per la sua amicizia con il nostro storico direttore, Don Vittorio Cristelli, erano ambedue cacciatori, si stimavano anche se poi non se le mandavano anche a dire. Ecco, ci aiuta Luciano Azzolini, che è stato fra i più vicini collaboratori di Kessler, a cogliere questa sua capacità di visione, questo essere statista dell'autonomia, come Augusto Goio ha denominato, ha titolato questa pagina. Ecco, nell'attacco del pezzo giustamente si dice che oggi fra i giovani quando si dice il Bruno si pensa al centro sociale, allora invece dire il Bruno era, senza nominarlo, fare riferimento a Kessler. Abbiamo anche una bella foto inedita che ci è arrivata dalla Val di Rabida, la Val di Sole e ci è sembrato insomma un doveroso tributo, non solo un onore ma anche un recuperarne l'eredità. Poi abbiamo altri due riferimenti storici, il libro dedicato alla moglie, la Farfalla Bianca, che troviamo nella pagina della Cultura, e poi Giorgio Postal, l'uomo della Rappacificazione, sul quale si sofferma invece nella sua rubrica Sentieri, il nostro Franco De Battaglia. Tu hai firmato un articolo che porta proprio il titolo di volontariato cristiano con un'intervista a Enrico Abeccara. Di che cosa parli Diego? Sì, è un signore di 95 anni, uno degli otto figli della famiglia Abeccara, noti in altri campi. Enrico forse è il meno noto ma la sua storia è ricchissima. Pensa che dagli anni 60 fino al marzo dell'anno scorso ha ogni settimana partecipato alle riunioni della conferenza di San Vincenzo, i cosiddetti vincenziani. Adesso ha 95 anni, una vita quindi all'insegna di questo impegno che vedeva la San Vincenzo presente soprattutto a sostegno delle famiglie più povere della nostra città, ma non solo, anche dei paesi, un sostegno molto concreto con l'accompagnamento anche per le varie esigenze. Un impegno però che nasceva da una puntuale formazione cristiana e spirituale. Per me è stato commovente nell'andare a trovare Enrico Abeccara, che è stato presidente della conferenza San Vincenzo di Trento per molti anni, vedere la precisione certosina con cui ancora fino all'anno scorso questi anziani tengono nota del verbale della loro riunione e dell'impegno orientato ad un caso particolare. Poi è interessante in questa storia vedere come la San Vincenzo si era mobilitata anche nell'80 per il terremoto in Irpinia e poi come aveva allargato i propri orizzonti in un gemellaggio anche con il popolo brasiliano attraverso la figura di Monsignor Masserdotti. Noi ci stiamo avvicinando a grandi passi alla Pasqua, anche voi vi occupate dei riti appunto pasquali, riti particolari anche quest'anno chiaramente a causa della pandemia. Sì, lo faremo anche nella prossima settimana con l'elenco delle iniziative consentite nel triduo pasquale che avranno una modifica anche in cattedrale per il quale ci auguriamo di poter rivedere anche il nostro Vescovo Laura al quale auguriamo un buon termine di convalescenza. Ci soffermiamo questa volta sulle disposizioni relative al Via Crucis, all'ora di adorazione, ma anche alla confessione perché, come forse a qualcuno è sfuggito, in occasione della pandemia è stato fatto ricorso alla possibilità appunto di una forma di accostamento al sacramento della riconciliazione diversa, la cosiddetta terza forma e Don Giulio Viviani, il nostro liturgista, ci spiega il significato di questa possibilità che sarà applicata anche nelle nostre chiese, così come è già successo lo scorso anno. Vi occupate della chiusura del Cinema Astra, questa notizia che è piombata nelle redazioni proprio nella mattina, nel pomeriggio di ieri e ovviamente ha lasciato un po' tutti attoniti, ecco, nessuno si aspettava una notizia del genere. Sì, abbiamo registrato anche noi sul nostro sito, sui nostri social, una reazione insomma di affetto verso la famiglia Artuso e ieri sbancando, come si dice in gergo, una pagina abbiamo costruito un racconto insomma della storia di questo cinema attraverso la firma del nostro collaboratore Paolo Piffer che, guarda caso, proprio a questo storico cinema ha dedicato un libro, una storia trentina. Ecco, ringrazio la regia che ci dà queste che potrebbero essere le ultime immagini visto che lo stabile è già stato venduto, questa è la notizia che diamo, sarà destinato quindi ad altri usi, però nel dibattito sui social c'è la richiesta forte che insomma attorno alla famiglia Artuso e al nome Astra si possa riattivare una qualche modalità nuova di avvicinamento al linguaggio cinematografico che, come è stato garantito da tanti anni in Corso Buonarrotti. Prima di salutarci, Diego, hai qualche segnalazione o dalle valli o di qualche articolo che non possiamo perderci? Ma no, direi che la nostra speranza è che tutti siano interessanti. Se mi consenti, magari accompagniamo la pagina dell'agricoltura, visto che è il numero agricolo perché, come avrete già detto giovedì scorso, abbiamo una nuova conduzione a due mani dopo i 40 anni di attività di Sergio Ferrari e Giuseppe Michelon. Auguro a Pietro Bertanza, che è il nuovo curatore, e al nostro esperto di Orto e Giardino, che è Roberto Vettori, di poter proseguire per almeno altri 40 anni. Assolutamente. Buona lettura, è sempre un'agricoltura per tutti. Se poi dai telespettatori possono arrivare anche richieste, segnalazioni o anche spunti per qualche approfondimento, è evidente che questo settore primario è primario anche nell'attenzione del nostro settimanale. Grazie infinite a Diego Andreatta, direttore di Vita Trentina. Grazie. Grazie.